Didacta 2021, iniziamo un giorno prima? Vi aspetto lunedì 15 marzo alle 16 per Aspettando Didacta con Campus Store, l'evento formativo completamente gratuito in cui ci muoveremo insieme all'interno di uno spazio educativo unico al mondo che stiamo allestendo proprio in queste ore insieme a Gam Gonzaga Ready, nostro partner in questa avventura e che vi sveleremo quel giorno. È uno spazio unico per la quantità e qualità di strumenti, tecnologie e soluzioni per la didattica che è in grado di contenere nei suoi 200 metri quadri e che scopriremo insieme quel giorno e poi approfondiremo man mano durante tutta la durata di Didacta 2021. Vi aspetto davvero in tanti, ciao!